Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video! Oggi un nuovo try and all di Oceans Apart. Oceans Apart mi ha omaggiato di tre completini che ora vi faccio vedere. Sono un po' diversi dal solito. Allora il primo, che è quello un po' più classico, ve lo faccio vedere, l'ho preso nella colorazione dark chocolate, che è questo. Questo è il top che si mette di sopra, questa è nella taglia S. Ma che strano, c'è la cerniera davanti! Bravo, hai beccato subito la particolarità di questo completo. Quindi magari siete lì che avete sudato tutto quanto, invece di togliervi il solito top nello stesso modo, si apre la cernierina qui davanti. Ve lo faccio vedere adesso perché dopo ovviamente, per cause ovvie, non ve la posso far vedere. Ecco qua. Bene, la cerniera così davanti direi che è molto comoda. Invece sotto ho preso questo pantalone che ha un tessuto diverso dal top, è un po' più liscio e ha le taschine laterali, sempre nella colorazione dark chocolate. Andiamo a vedere subito come mi sta questo completo. Ecco il primo completino nella colorazione marrone scuro, mi piace tantissimo. Come vi ho detto, la cernierina davanti per facilitare. Vi faccio vedere un pochettino. Ecco qua. Mi piace tantissimo anche qua davanti perché è bello spesso e quindi va a coprire bene. Come vi ho detto prima, ci sono le taschine laterali, molto comode. Ma arrivano, scusami, tutto quel triangolo? Arriva fino a qua. Ah sì, è tutto il triangolo. Una super tascona. Molto bello, confortevole e ha il logo sotto al ginocchio. Il secondo che vi faccio vedere è questo. Allora, il pantalone ve l'avevo già fatto vedere in un altro video di Ocean's Apart nella colorazione verde, verde scuro, verde militare. Cambia, scusa, cambia. Sì, verde militare. L'ho preso nella colorazione nera perché mi sono piaciuti e quindi l'ho voluti anche così, con i tasconi laterali, belli. E sopra da metterci questo top. Questo è molto carino. Tra l'altro ha le bretelle che si possono allargare, tipo reggiseno. questo è nella taglia S e ha la copertura davanti. Cos'hai fatto al pollice? Mi sono affettata un dito. Col taglia verdure che abbiamo preso su Amazon, tra l'altro è fantastico. Taglia qualsiasi cosa e mi sono tagliato anche il dito. I pantaloni invece sono nella taglia XS perché vestono un po' grande. Se volete acquistare qualche completino Ocean's Apart, vi lascio qui il mio codice sconto ROSE WINTER che è valido fino al 31 gennaio ed è cumulabile. Cioè che se sono scontati già nel sito potete applicare un ulteriore sconto fino al 60% di sconto. A partire invece dal mese di febbraio avrete il codice sconto ROSE WINTER del 30% su tutto il sito. Bene, andiamo a vedere questo secondo completino. Anche questo corpetto lo trovo molto carino, questo top. Molto sexy. Si, se volete sentirevi un po' più sexy, sensuali mentre fate attività sportiva, questo fa il caso vostro. Le coppe sono molto belle anche qua e tengono molto bene il seno e qui c'è un doppio strato di tessuto. Non so bene a cosa serva, però può essere per non far sentire il fatto che sia costine e quindi può non essere troppo confortevole sulla pelle. E vi ripeto che si può regolare la bretella. Questo invece è il pantalone e vi faccio vedere l'outfit per intero. questo è il terzo che mi è piaciuto tantissimo. La maglia è questa, di una qualità altissima perché lo sento, è proprio bello, morbido. La taglia è XS. L'ho presa in questa colorazione, si può stringere anche davanti. C'è il fiocchettino, c'è il laccetto scusate. E il pantalone da abbinare sotto è questo. Troppo troppo bello. Sì, è bellissimo, lo adoro. Fucsia. Questo anche nella taglia XS. Comunque vi metto tutti i link di tutti i capi d'abbigliamento che vedete qui sotto in infobox. Bene, andiamo a vedere anche questo completino. Anche questo completino mi piace tantissimo, i due colori stanno bene insieme. La qualità è buonissima, altissima. La maglia è oversize. Infatti, non so se vedete, è abbastanza grande, ma è comoda. E il pantaloncino è bellissimo. Lo amo. Troppo bello. Rieccoci tornati, vi ricordo il codice sconto ROSEWINTER del 40% su tutto il sito senza un minimo di spesa. Il video termina qui, vi ricordo di cliccare qui per iscrivervi al canale e noi come sempre ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao!